Buongiorno a tutti da Ermanno Frassoni, MotorfonTV. Siamo qui con Edo Varini, pilota, manager, opinionista televisivo e coach driver. Benvenuto Edo e grazie per aver accettato il mio invito. Di nulla Ermanno, buonasera a te e buonasera a tutti i tuoi teleaspettatori perché stanno comunque aspettando, no? Comunque sono in ogni caso dei teleweb spettatori perché in ogni caso sono sul web e non in televisione, quindi a tutti coloro che ti seguono il mio abbraccio più caloroso. Come prima cosa vorrei chiederti come stai e in che modo hai gestito questi mesi così particolari? Beh, come sto? Diciamo che sto bene, fisicamente sono un, non so, un leone, no, sono una riete, quindi un leone neanche un po', mia moglie che è un leone. Diciamo che mi sento comunque molto bene fisicamente perché ho avuto la fortuna di trascorrere questo periodo di lockdown in una casa che mi ha permesso di fare movimento, di allenarmi quotidianamente e quindi fisicamente mi sento più che un leone, un toro, potrei guidare anche un F104 senza cupolino. Sto molto bene anche mentalmente, nel senso che questi due mesi di lockdown mi hanno dato la possibilità di riflettere molto, come penso abbiamo fatto un po' tutti e di guardarmi un po' dentro, di rivedere alcune cose che forse nella mia vita, nel mio quotidiano non andavano così bene. O almeno io credevo andassero bene, però questo stop, questi domiciliari forzati mi hanno fatto pensare che potevo stare meglio. Quindi oggi sono direi a un buon punto, sono ok sia a livello psicologico che a livello fisico, quindi ottimo equilibrio psicofisico. Passando invece a parlare della tua carriera agonistica, sappiamo che inizia in moto e non in automobile come alcuni potrebbero pensare. Volevo un po' sapere da te come è iniziato tutto. Diciamo che io credo nelle belle favole. Normalmente le belle favole non iniziano mai per essere favole. Iniziano sì con una grande enfasi, con una grande passione, con grandi sogni e poi se sono fiabe fortunate, diventano delle storie bellissime che puoi raccontarti o puoi raccontare e così affascinare ed incuriosire proprio perché nascono dalla passione, quindi nascono da un'emozione o da più emozioni e questa o queste emozioni sono quelle che non solo danno origine al sogno, ma lo alimentano fino al punto che diventa realtà. Io ho iniziato dalle motociclette, quindi dai motorini, poi ovviamente dal motocross, quindi con la classe 125, partecipando ai campionati che all'epoca si chiamavano campionati cadetti. Ne vinci uno, passai di categoria e tutto sommato siccome il passaggio di categoria dalla 125 alla 250 coincideva quasi con quella che ha 18 anni, almeno io ricordo i miei 18 anni come un traguardo. Cioè quando io avevo 16 anni, mi ricordo che, anzi facciamo una cosa, quando ne avevo 12 il mio traguardo erano i 14, perché a 14 c'era il motorino. Poi c'era il traguardo dei 16, perché a 16 c'era la moto 125 targata, anche se io ho iniziato a usarla un anno prima da competizione in pista. E poi ovviamente l'ultimo traguardo che probabilmente a quell'età si pensava di dover raggiungere per toccare il cielo con un dito, cosa ovviamente non vera, ma nei sogni di un bambino, perché effettivamente a 16 anni sei un bambino, quello era, erano i 18 anni perché a 18 anni c'era la patente, quindi c'era l'automobile, con tutti i risvolti che la stessa aveva, quindi positivi e negativi. Io feci il salto di categoria, anzi sì, feci il salto di categoria, passai ai cadetti 250, ma ricordo benissimo che, come se fosse ieri, non lo so, io avevo già la testa che pensava alle quattro ruote, avevo già la testa che pensava all'automobile, non so se per fare il monello con le ragazzine o se per fare quello che poi effettivamente è stato il mio mestiere, però io ricordo che avevo nella testa le quattro ruote, e quindi abbandonai le due ruote per dedicarmi alla macchina, all'automobile, non con pochi problemi perché riuscì a sfasciare una Scirocco GT con quattro giorni di foglio rosa, con un doppio salto carpiato, togliendo un palo di legno di oltre 50 centimetri di diametro dalla sua sede e atterrando di capote in un campo, quindi non pochi problemi, però io sentivo che doveva essere quella la mia strada e niente, io preparai una macchina, anzi mi feci preparare una mitica 112 Abarth gruppo 1 all'epoca, perché all'epoca c'erano i gruppi 1, gruppo 2, gruppo 3, gruppo 4, il gruppo 1 era praticamente il gruppo 1, tutto sommato, e preparai questa 112 Abarth 70 HP meravigliosa, provai e riprovai quello che all'epoca era uno dei rally almeno regionali più importanti che era il rally di Modena e un mese e mezzo prima del rally di Modena, all'epoca c'era questa usanza, mi arrivò una cartolina, un bel bigliettino di felicitazioni da parte del nostro amabile Stato italiano, con la quale mi si invitava e non cortesemente, quindi non mi si invitava, mi si obbligava a partecipare a quella che all'epoca era la stagione dei pianti, ossia il militare, quindi io ricordo il giorno in cui mi arrivò la cartolina, come l'avessi vissuto poco tempo fa, mi arrivò la cartolina, subito non seppi cosa fare e cosa dire, tant'è vero che mia madre, mia povera mamma mi guardò in faccia e mi diceva cosa è successo, cosa è arrivato? niente ma niente, usci di casa con la 112 parcheggiata sotto, con roll bar, tutto perché la macchina fondamentalmente era un gruppo N quindi poteva girare per strada, insomma, usci da casa quella mattina in macchina diciamo ed ero talmente incacchiato che durante la giornata lungo il mio percorso incrociai un'auto rivendita che trattava anche moto, entrai nell'auto rivendita, lasciai la macchina e comprai una moto, proprio per la rabbia che avevo in corpo legata a ciò che mi stava accadendo, da lì poi niente, ovviamente rientrai dal servizio di leva, mi dedicai alle moto, però non più motocross ma moto velocità, poi nell'86 ebbi un incidente abbastanza serio in moto sulla strada di montagna, sulla mitica strada della fontanina, quella che potrebbe essere come tante strade montane, la strada della morte si chiama e con quell'incidente mi fermai definitivamente con le moto e mi preclusi la possibilità, scusa, di proseguire nonostante nel momento in cui ebbi l'incidente ero secondo o terzo nel campionato Yamaha RD-500. Da lì dopo la storia è fatta, sono passata alle macchine. Volevo chiederti, prima di passare appunto alle quattro quote, che ambiente era quello del motociclismo di allora? Ma guarda, allora io ti posso raccontare un aneddoto. Avevo la moto da cross competizione in garage e giravo con una Aprilia 125 RC per strada, no? Regolarità. È stato l'anno in cui vinci il primo campionato. Volevo partecipare a tutti i corsi ad una gara e mio padre non voleva che io andassi. Tant'è vero che mi lucchettò la 125 da competizione, no? Allora io, incacchiato come una pantera, prese su uno zainetto e l'RC, quella verità. Mi presentai ai cancelli di questa gara, che tra l'altro era una gara che si disputava a Villanova ed era, diciamo, la gara annuale di un grande del motocross italiano che si chiamava Italo Forni, corse ufficiale Villa. Era la gara di casa sua, no? In questo percorso che era pianeggiante, era una sorta di indoor perché lo facevano, diciamo, che veniva costruito dietro la chiesa di Villanova tutti gli anni, abbattuta e ricostruita. Mi presentai con l'RC, andai in pista e mentre stavo preparandomi, appunto, per entrare, un meccanico che mi era vicino, mi si avvicinò e mi disse ma ti sei accorto che hai il cerchio anteriore crepato? Allora io lo guardai e dici, no, no, dove? Io avevo una crepa che considera, era già a metà del cerchio, quindi prendeva dal bordo esterno fino a metà della valvola, la valvola per la pressione delle gomme, no? Cioè tipo, adesso non era lì, però la crepa era praticamente all'altezza della valvola con cui gonfi la gomma. Allorché io lo guardo e dico, ahia, e adesso? Mi dice, non c'è problema, vuoi correre? E gli dice, sì, certo che voglio correre, perfetto, aspettami qua. Prese un trappano, forò la crepa, al vertice della crepa fece il foro, io feci la gara e vinci, col cerchio forato e crepato. Allora questo lo racconto perché? Perché oggi siamo abituati a vedere gente che non si sporca le mani, gente che non si ingegna più di tanto, gente che ha il camice bianco come un dottore, si presenta in pista, fa la diagnosi e ti dice vite, morte e miracoli di quello che c'è fuori, dentro, quando sei in pista e quando non ci sei. Io ritengo che il racing di una volta fosse racing vero perché era mosso dalla passione e non era mosso dai quattrini. Questo è quello che io penso. Vorrei invece chiederti che ricordi hai della tua prima volta in pista su una macchina da corsa? Ho un ricordo strano. Allora, parlando di ruote coperte, mi sembra di tornare all'87, 86-87 su un Porsche. Ancora erano Porsche di quelli che volavano con l'anteriore, che avevano un quintale davanti di piombo per cercare con quello di ottenere un assetto quasi equilibrato. Però diciamo che il debutto più divertente che ricordo fu con il Formula, fu in una fredda giornata di gennaio, non mi ricordo se del 93, 95, 94, quegli anni lì comunque, 93 forse, 94, con una Dallara, una Dallara, Dallara, mi sembra, una Dallara F, aspetta, F non ricordo bene la sigla, comunque era un 89 la macchina, non mi ricordo se era un 92, 93. E ricordo che sul circuito di Magione alleggiava una brezza fantastica, una nebbia, una nebbiolina di quella, c'è quella nebbiolina che fa grip, ma non in senso buono, fa grip in senso sbagliato, e fu un debutto speciale perché diciamo non avevo mai provato un Formula, tutto sommato. Quindi considerando che la guida tra Formula e GT o tra Formula e Turismo, comunque tra macchine che sono Formula, anche i prototipi e vetture con carrozza, quindi con dinamica è completamente differente, sostanzialmente diversa, mi divertì anche se feci qualche piccola escursione anche in ghiaia perché purtroppo capitò e senza danni però, ho ancora delle foto da qualche parte, aspetta, 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 stai lì, forse c'ho qualcosa. Qualche testimonianza fotografica a portata di mano. Questo però non so se è Magione o è Misano, questo è Misano, mi sa, non è gara, questo invece deve essere Magione, questo è Magione. perché è un po' scura l'immagine, ma... Perché purtroppo, vedi, vedi Armand, in questo momento, guarda, questo è un reperto storico, fa vedere. Sì, avvicina, ok, perfetto. Qui torniamo indietro, avevo 13 anni, quindi... Ecco, in questi mesi, in questo periodo, mi sono dedicato tanto me stesso, anche dal punto di vista della comunicazione, dei ricordi, di cose belle, insomma. Vorrei chiederti, più in generale, come pilota, che pilota è, appunto, Edo Varini? Che pilota è, Edo Varini? A parte che la luce va e viene, ma non è colpa mia, eh? Sì, sì, che pilota è... Che pilota è Edo Varini? Allora, sicuramente è un pilota maturo, nel senso che, a parte l'età, che uno potrebbe dire, certo, che sei maturo, hai 58 anni, sei vecchio, non maturo, tra un po' cadi dalla pianta. Sono un pilota che ha capito, già da tanto tempo, quale poteva essere la sua indole. Ed è per questo che, da oltre 20 anni, corro quasi esclusivamente, a meno che non ne sia costretto, tra virgolette, in gara endurance. Perché io credo che i piloti, dopo una certa età, ma non perché si diventa vecchi, non è un problema di vecchiaia, è un problema proprio di maturità, maturità legata al fatto che, intanto, le gare sprint sprigionano tutta l'adrenalina, tutto il carattere, tutta la cattiveria, e poca strategia, spesso poca strategia, soprattutto quando le gare sono gare di 20 minuti. E quindi, dai tutto te stesso per quei 25 giri, spesso non capendo quello che fai, spesso. Quando invece, maturi esperienza, crescendo, magari anche partecipando a gare diverse, ti rendi conto che il motorsport è un po' come è un po' come l'amore, no? Metaforizzo. A 20 anni l'amore ha delle sfumature, a 30 ne ha delle altre, e a 50 delle altre ancora. Così il racing. A 30 anni tu hai, a 20 anni hai un indole che devi comunque manifestare e devi sfogare. Poi, crescendo, anche il racing matura. Quindi ti rendi conto che magari a 30 anni o a 40 anni sei più attratto da gare che ti fanno stare, detta come va detto, con il sedere in macchina. Ci stai. Perché ti piace guidare, perché ti piace avere l'intelligenza strategica per poter gestire una gara, una macchina, una gara. E queste sono tutte sfumature che capisci col tempo. Quindi io credo che Edo Verini oggi sia un pilota oltre a modo maturo e comunque io ho più di 10 anni che corro solo in gara endurance dalle 3 ore alle 24, quindi alla fine questo la dice lunga su quello che può essere Edo Verini. Quali sono invece i tuoi circuiti preferiti? In Italia o in Europa? In generale. Dunque, allora, dunque, dunque, vabbè, è inutile che dica il Nürburgring, perché il Nürburgring per me era e resterà, resterà sempre il meglio, ma non tanto perché io ci ho corso sei anni, no, non per quello, ma perché ritengo sia un tracciato seppur molto pericoloso, altrettanto completo, perché al Nürburgring trovi tutto. Quindi, sono 23 chilometri e trovi tutto, cosa che non trovi in altri circuiti. Forse l'unico circuito che ha dei punti di contatto con il Nürburgring può essere Spa. Tutti gli altri non ha niente a che vedere. Allora, in Italia il circuito che preferisco di più in assoluto è Imola. Senza ombra di dubbio. Imola per me è una pista spettacolare, meravigliosa con diversi punti tosti dove il pilota si vede più del Mugello. Il Mugello è un percorso diverso. Innanzitutto il Mugello ha un grip completamente diverso. Ha più grip di Imola a livello proprio di sostanza di asfalto. Poi, fondamentalmente il Mugello è di punti effettivamente complessi. Per complessi intendo dire un punto in cui il pilota deve decidere tolgo ottengo tolgo ottengo ce n'è solo uno che è il punto culmine delle arrabbiate. Quando imposti imposti e tieni giù. Fine. Ed è l'unico punto da pelo pelo che hai al Mugello. Pelo pelo perché ovviamente tu considera che con con il CN grosso modo tenendo giù pieno arrivi su a 207 208 chilometri orari. Diciamo che col tour probabilmente arrivi anche qualcosa di più. Sto parlando di CN aspirati. CN aspirati sei 208 diciamo dai 206 ai 212 tieni questa range perché dipende se hai tolto e ridato prima o dopo quando l'hai fatto però comunque se tu tieni giù quindi alleggerisci leggermente l'arrabbiata 1 poi tieni a pacchetto fin giù imposti e te ne freghi di quello che c'è grosso modo sei dai 208 ai 212 in uscita ed è una bella velocità garantito però è l'unico punto Imola ne ha sicuri sicuri 2 sicuri sicuri per non dire 3 Piratella Acqua e Minerali e Rivasta e sono 3 tutti e 3 punti da pelo perché in Rivasta ci arrivi fortissimo ed è inevitabile che tu debba prendere quel punto di corda non puoi sbagliarlo se sbagli il punto di frenata sei per forza in erba quindi devi essere sempre assolutamente matematico e attento a quel punto di staccata per prendere poi successivamente il punto di corda le acque minerali è altrettanto complesso perché sembra facile in quanto dici sei in discesa vado spingo però il punto di frenata alle acque minerali non è all'ingresso della prima delle acque è tra la prima e la seconda quindi tu oltre la prima ci arrivi ancora a gas palancato col prototipo e poi pianti giù il freno e giri quindi devi avere il coraggio di farlo perché i tempi che hai e gli spazi che hai in rapporto alla velocità che stai facendo sono veramente striminziti il primo punto che ritengo sia molto molto importante io faccio così perché il buio ma io non capisco perché vado al buio aspettate ragazzi il primo punto io sono andato dal 3 3-2-1 invece di 1-2-3 il primo punto che in questo caso è il terzo per ordine di sequenza è la piratella perché comunque in piratella arrivi su spalancato fai il salto della piratella e sei di quinta piena e arrivi alla piratella scalando una marcia quindi e riaffondando subito quindi è un bel punto di staccate di corda molto veloce vorrei scusa se ti interrompo vorrei soffermarmi sulla tua esperienza nel WLN tedesco quindi la serie teutonica appunto che corre esclusivamente sul circuito del vecchio Murburying così arriviamo a trattare del North Life vorrei chiederti che ambiente si respira appunto in questa serie in cui imperano i motorsport club dunque anche allora premetto che io l'ultima esperienza che ho avuto a parte il 2015 con qualche gara nell'RCN ma l'ultima esperienza che ho avuto in WLN è stata nel 2011 quando corsi l'ultima 24 ore e partecipammo a mi sembro sei o sette delle gare del WLN vincendole praticamente quasi tutte di classe e poi vincendo la classe anche la 24 ore del Murburying arrivando 75 esimi con una BMW 325 in SP4 quindi un risultato ottimo proprio perché eravamo in 243 macchine e noi avevamo una macchina mediamente performante all'epoca all'epoca l'ambiente era molto molto bello cosa intendo dire intendo dire che ho iniziato questa mia chiacchierata con te parlando di emozione e di passione la stessa cosa la posso comunque replicare anzi ribaltare sul WLN dell'epoca io iniziai nel 2005 nel WLN e nella 24 ore e si respirava l'aria proprio di non di di antagonismo ma quasi di di collaborazione perché comunque è vero che correre a Nürburgring è forse diciamo una delle delle cose più pericolose che fa un pilota però proprio perché è una cosa pericolosa quella che fai tu hai a che fare con altri fai un conto di 240 macchine tre piloti per macchina sono 600 passapiloti no? ecco tu fai conto che hai 600 colleghi che come te sanno di rischiare la vita veramente quindi non trovi gente particolarmente aggressiva scorretta è raro quando capitano incidenti incidenti di un certo tipo sì l'errore umano ci sta sempre quindi probabilmente c'è una una componente sempre importante che è relativa all'errore umano ma spesso e volentieri non sono nemmeno incidenti voluti cioè sono incidenti che possono accadere per via anche solo semplicemente di un guasto all'autovettura quindi purtroppo però capisci che se ci sono 20 macchine in pista ti si guasta in freni e tu sei da solo vai fuori da solo se ci sono 240 macchine spessi blocchi di macchine più lente che si superano sono di 3 5 7 macchine a botta se ti capita qualcosa ne fai 7 8 come come se fossi al bullying capisci quindi ma proprio perché c'è un grande rispetto al nur bullying difficilmente vedi comportamenti almeno finché io ci ho corso nel 2011 poi devo dire che il nur bring è cambiato è cambiato dal 2015 con l'avvento del WTCC dell'omologa di North Life in FIA con diciamo l'accesso il libero accesso dei GT3 nel campionato è cambiato tutto anche infatti ci sono molti meno piloti c'è molta meno presenza rispetto a quella che avevamo noi mediamente 80 70 macchine meno oggi una 24 ore del Neubro folta cioè nutrita di partecipanti mi dicono sia cavallo dei 160 barra 180 equipaggi noi eravamo normalmente in 260 e poi siccome per regolamento ne potevano essere messe solo 242 mi sembra eravamo in 242 perché venivano eliminati gli altri ma altrimenti avevamo corso in 260 quindi c'è una carenza quasi di un terzo rispetto a quando correvamo noi altri numeri diciamo rispetto sì sì completamente ma abbiamo parlato di soldi prima quindi il soldo non sempre riesce ad essere diciamo non riesce il soldo non sempre riesce a far sì che la passione resti tale pur essendo finanziata da grandi fiumi di denaro perché normalmente chi ne ha di più più spende quindi chi ne ha di più arriva con 20 treni di gomme arriva con due bilici arriva con questa arriva con quell'altro e secondo me toglie tanto alla passione cioè io ricordo le prime 24 ore che facevo cioè ti giuro Armando vedevi gente cioè vedevi gente che correva la mitica Opel Manta con la coda di volpe sul tetto cioè cose che non vedi da nessuna parte capisci cioè adesso non le vedi più adesso volevo anche chiederti se hai usato qualche stratagemma in particolare per apprendere i segreti di una pista di oltre 22 km come il Norbury ma guarda no stratagemmi non ne ho non ne ho adottati non ne ho adottati perché la prima 24 ore a cui ho partecipato qui non capisco perché fa il buio Armando un po' buio mi dà un fastidio mi dà un fastidio aspetta che torno a regolare questo la voce arriva è la luce che non ci assiste molto è strano perché io non mi muovo quindi comunque no non ho utilizzato nessuno stratagemma andai su con due colleghi allora prima comprai all'epoca c'era la PS3 prima acquistai il gioco della PS3 tanto per capire dove girava dove girava la pista e poi salì solo una volta e si affittò una vettura della una vettura noleggio una vettura stradale quindi immagina quando l'abbiamo restituita all'autonoleggio come era messa comunque si fece una giornata di di test praticamente cioè una giornata quasi intera però ti dico la verità cioè il Nürburgring è un è un tracciato almeno io non ho fatto una grandissima fatica a memorizzarlo perché essendo un circuito molto lungo con dei tratti poco faticoso premetto poco faticoso e con dei tratti anche particolarmente rilassanti tra virgolette perché hai dei reti fili a volte molto molto lunghi quindi hai tempo anche per recuperare capisci? quindi anche forse per rielaborare rivedere pensare cosa che invece quando hai un circuito una curva dietro l'altra non non ti permette io ricordo non so ricordo Portimao Portimao che per me è una pista splendida è una pista che in ogni caso non ti dà tanto tanto spazio per riflettere una curva dietro l'altra sali e scendi discesa salite devi sempre essere sul pezzo non puoi fermarti un attimo al nurburgring non dico che ti puoi fermare però il nurburgring ti permette anche di pensare ovviamente se hai una vettura mediamente veloce perché è normale se hai un mostro da 800 cavalli che sfoga i 340 all'ora sul rettilineo pensi poco anche lì però va tutto di conseguenza anche perché il nurburgring non ci sono segreti particolari cioè non esistono tante traiettorie al nurburgring ce n'è una di traiettorie quella lì dei punti che ritieni più affascinanti della pista del vecchio nurburgring beh certo certo beh Adenauer Frost Fug Show Adenauer Frost per me è un punto spettacolare perché arrivi giù se hai sei marce arrivi giù di sesta piena non togli hai un un'unica traiettoria sulla sinistra con un fossetto quindi devi beccare quel fossetto e sei sei tirato su lanciato su a fionda perché e tac su e giù come se tu fossi sul calcio in culo quindi quello è un punto secondo me strepitoso i carousel sono molto belli a me piaceva tantissimo il pezzo che viene descritto come il pezzo con le scritte con le scritte sull'asfalto praticamente dopo il carousel c'è un pezzo guidato con una serie di curve poi vi è una curva sinistra una curva destra in salita poi scendi e inizi la discesa in questo pezzo dove ci sono tutti c'è l'asfalto che è tutto pittato per terra si dice pittato tutto disegnato tutto pitturato quello a me piaceva molto come pezzo perché è in discesa ed è un pezzo con un paio di traiettorie tagliate che devi per forza tagliare sui cordoli che le fai forte quello a me piace molto poi vabbè il pezzo col salto quello dove che non è il fluktuast ma il secondo salto quello dove veramente le macchine vengono fotografate con le quattro ruote leggermente staccate da terra che credo sia molto bello perché tu praticamente salti con il piede sul freno perché siccome arrivi giù in discesa a gas spalancato e devi saltare per forza non è che salti con i piedi attaccati al sottofondo della macchina e poi hai il tempo di frenare quindi ti prepari prima quindi gas pieno e quando sei sul salto metti il piede sul freno quindi quando praticamente atterri sei già con la macchina frenata perché appena prende l'asfalto sembra quasi che inchiodi quello quello è molto emozionante molto bello che ricordi hai invece della 24 ore dell'Urburi in 2007 in cui mi risulta hai corso con due vetture diverse l'equipaggio mitico con il grande Mauro Simoncini che ancora lui corre all'Urburi infatti fino al 2011 eravamo quasi eravamo vicini perché io ne contavo cinque con la doppia partecipazione e lui mi sa che ne contasse qualcuno in più forse sei forse sette sei o sette adesso mi ha superato abbondantemente perché ovviamente adesso lui credo che ne abbia raggiunte forse c'è sempre sta benedetta luce ragazzi non è colpa mia credo che lui ne abbia fatte una quindicina se non sedici beh nel 2007 l'equipaggio era particolare perché Mauro io Bacchiorri Oldani che ogni tanto saltava sul 330 e Mario caro tenuto praticamente eravamo cinque piloti con due macchine e quindi cosa fai o mangi la finestra o salti la finestra allora la Nissan ha avuto un problema al motore già nelle prove nelle prove libere del giovedì sera e quindi il giovedì sera sono partiti meccanici sono andati a Bellinzona a prendere un motore da rimontare sull'Alison perché altrimenti eravamo a piedi sul BMW invece 330 ha problemi seri non ne abbiamo avuto l'unico problema l'ha avuto il caro tenuto che all'1.30 del mattino in gara se l'è tirata a cappello se l'è tirata in testa la macchina era piantata in capotta quindi sulle quattro ruote alzate e da lì pensavamo che tutto fosse finito almeno da quel punto di vista con quella macchina invece ironia della sorte vuole che pur noi continuando con la Nissan ci siamo trovati nella prima edizione della 24 ore del Nürburgring che per ragioni caratterizzate dalla nebbia dovete sospendere alle 3 io feci il penultimo turno alle 2 mi sembra verso le 2 anzi no aspetta feci il penultimo turno dall'1 dall'1 alle 2 e un quarto o dall'1 alle 2 e un quarto o dall'1 e mezza alle 2 20 2 e mezza insomma feci il penultimo turno mi ricordo che partimmo in 4 dalla pit lane e finimmo il turno di un'ora e un quarto in 4 sempre nello stesso ordine senza muoverci la visibilità era abbondantemente sotto i 10 metri abbondantemente cioè non vedevi niente noi vedevamo solo io mi ricordo ero la terza macchina non ero la prima ero la terza quindi tanto di cappello per il primo io ricordo solo delle gran macchine che vedevo volare a destra manca una appoggiata su un albero l'altra appoggiata da un'altra una cosa veramente da brividi perché tu puoi ben immaginarti i 23 chilometri del Nürburgring immaginateli senza vedere che cosa hai davanti e lì fu sospesa la gara e fu sospesa per ben 7 ore dalle 3 del mattino alle 10 tempo che ci permise di rimettere in sesto come si poteva il BMW e alla fine col BMW 3.30 che peraltro avevo portato io in partenza quindi la partenza del 3.30 l'avevo fatto io l'avevo fatta io e la Nissan invece l'avevo portata in partenza Mauro Simoncini col BMW arrivamo terzi di classe S3 mi ricordo che in quella classe eravamo mi sembra una 14 macchine 12-14 macchine eravamo podio quindi arrivare terzi di classe dopo tutto quello che era accaduto e considerando che la foto che tu trovi su Facebook nel gruppo il mio ring dove ci sono la Nissan e la BMW appaiate ecco la macchina è arrivata il BMW è arrivato in quelle condizioni al traguardo sembrava la macchina dell'uomo ragno con il vetro con il parabressa la capota tutta schiacciata era stata una cosa meravigliosa sono quelle cose Ermanno che che puoi raccontare fortunatamente e quando le racconti stai sempre bene chiaro invece volevo chiederti da pilota c'è una gara che secondo te vorresti aggiungere al tuo curriculum sì ce n'era una ce n'era una ma non vi ho mai pensato per un problema legato semplicemente al budget che sarebbe stata la 24 ore di Le Mans che io giudico una gara bella divertente ma dove il business ha superato la competizione è una gara dove contano solo i quattrini cioè mentre alla 24 ore del Nürburgring tu puoi presentarti con tutte le valigie piene di quattrini che vuoi ma se tu non hai fatti corsi e i supercorsi per correre nel VLN e alla 24 ore non corri non corri punto cioè tutti i piloti del WTCC da Piedone a Tarquini a a Nico Hülkenberg ok a Science che insomma non mi sembra di fare nomi di gente che è illustra sconosciuta no ecco tutti costoro per poter correre la gara del WTCC o la 24 ore hanno fatto le gare con i corsi i precorsi del WLN altrimenti non li facevano correre questo significa professionalità secondo me poi per carità può sempre cadere io sono possibilista e fatalista quindi può sempre caderti in qualsiasi condizione però quando tu hai saggiato bene il Nürburgring hai fatto delle gare del WLN hai capito dove sei i rischi che puoi correre e far correre gli altri io sono convinto che magari un pensierino in più magari lo fai perché hai 23 km per superare quello davanti non ne hai uno nei 23 con 200 possibilità quindi puoi attendere puoi aspettare non è un problema cosa che alle man non accade perché alle man tu hai un milione di euro ti presenti e dici guardi io voglio correre con quella macchina lì una più una più due ah non mi interessa mi piace a un milione mi fai correre certo dopo poi ci lamentiamo perché l'Audi distrugge due macchine a fronte di un'incomprensione con un GT e quell'altra ma è normale cioè GT ed LMP1 cioè LMP1 potrebbe correre alla pari con un Formula 1 non con un GT quindi chi guida il GT deve essere assolutamente attento e girare con gli occhi piantati sugli specchietti soprattutto perché gli LMP1 non li vedi e chi guida l'MP1 deve avere la capacità di comprendere che quel famoso attimo non so se mi capisci Armando ma quel famoso attimo che pazienti per sfogare tutto quello che hai ti consente di non far casini perché quando tu vedi che non so io ricordo l'incidente che ci fu qualche anno fa non mi ricordo se sull'Audi c'era non mi ricordo chi c'era sull'Audi comunque era l'equipaggio dove c'era dove c'era Dindo mi sembra dove c'era Dindo e ci fu un'incomprensione con un GT con un Ferrari praticamente l'incomprensione fu che il GT non vide l'MP1 quindi in staccata chiuse l'Audi volò fuori fuori dal circuito quasi rimase intatto solo il cockpit solo quello ci sono in effetti notevoli differenze tra appunto una GT un L'MP1 un altro mondo diciamo un altro mondo cioè un L'MP1 da 350 all'ora arrivare a 50 all'ora impiega impiegherà 90 metri se li impiega forse anche meno un GT da 330 all'ora arrivare a a 50 all'ora ce ne vogliono 200 se va bene quindi c'è una certa differenza cioè vuol dire che tu un L'MP1 ce l'hai a bocca aperta che significa 330 all'ora per 100 metri ancora cioè ti passa davanti che è un proiettile quindi tu non puoi permetterti l'errore se tu vedi due fanalini due fari un po' più stai buono lì non chiudere la traiettoria vabbè se anziché essere un L'MP2 un L'MP1 un L'MP2 è un tuo collega del GT ti ha tirato la staccata ti ha fatto la la battuta come si suol dire lo riprenderai la curva dopo però non rischiare perché a quei livelli lì i rischi non sono solo di fare tanti tanti milioni di danni sono anche quelli di farsi del male insomma alla fine sai viviamo in un mondo parlando di motorsport che non è fatto di piloti che vengono pagati è fatto di piloti che pagano a parte gli ufficiali degli L'MP1 e P2 la maggior parte di quelli che corrono in GT pagano ma questa è una realtà purtroppo del motorsport di oggi pagano allora io ricordo ma purtroppo d'accordo è una cosa che va indietro nel tempo perché anche anche io ricordo una cosa bruttissima che accade quel famoso primo maggio 1994 dove giustamente io più volte commentai la morte di Ronald peraltro ho conosciuto anche i genitori di Ronald proprio l'anno scorso due persone splendide tra l'altro io commentai più mi ricordo un commento di sì io sono un fervido e sarò sempre un sostenitore di Ayrton perché per me Ayrton era e rimarrà punto non ce ne saranno altri però se penso alla tragedia di Rathenberger è ancora più più grande perché comunque Rathenberger pagava se ne era pagato Rathenberger pagava quindi diciamo che nel motorsport soprattutto nel motorsport chiamiamolo moderno ok dagli anni 90 in poi questo questo rapporto tra capacità e budget forse è andato più a netto favore del budget che della capacità quindi chi ne aveva di più correva alla fine oggi questo rapporto non esiste più oggi tu puoi essere anche il nuovo Ayrton Sen ma se tu non hai il budget non corri puoi avere delle caratteristiche per cui se sei un pilota esperto magari ti prende vieni vieni assunto tra virgolette a gettone dal dal team random perché ha bisogno magari di portare la macchina davanti in griglia o ha bisogno che tu faccia da coach agenzie man driver e allora magari ti ritrovi con un pilota come me che ha tanti anni di esperienza che magari non spende quasi niente o spende un treno di gomme alla fine però io sono come tanti altri miei colleghi diciamo tra i pochi io io ho sempre detto che non ho mai guadagnato dai team cioè non ho mai preso soldi dai team ai team pagavano i miei sponsor e pagavano poco quello sì è vero anche in Germania io non ho mai pagato cifre cioè in Germania anzi l'ultimo anno nel 2011 ero arrivato quasi all'Olimpo nel senso che il team voleva che ci corressi io e quindi così era punto e basta vorrei invece andare un attimo a pagare scusa se ti interrompo volevo un attimo andare sull'attualità legata a un tema importante di cui si è tanto parlato in Formula 1 se tu fossi stato al posto di Mattia Minotto avresti già ufficializzato l'annuncio di Carlos Sainz al posto di Fettel o avresti ancora atteso un po' ma sai io credo che la Ferrari allora premetto che io la Formula 1 la guardo con un occhio solamente ok perché ti ho già risposto prima cioè è uno sport che non è più sport quindi è qualche cosa che non si sa bene che cosa sia è a metà tra la ricchezza assoluta e la performance di chi c'è sopra che guida la macchina però con una grande verità che è quella legata al fatto che seppur il pilota di Formula 1 oggi debba essere debba avere determinate caratteristiche psicofisiche quindi super allenato super attento quindi io attribuisco al pilota di oggi in Formula 1 una preparazione psicologica più importante rispetto a quella fisica non che non si prepari per carità è preparatissimo sia dall'uno che dall'altro punto di vista però io ritengo che per guidare quelle macchine che sono completamente totalmente devote all'elettronica dove il pilota la componente pilota e capacità dello stesso sono spesso sotto sottotono rispetto alle performance della vettura e lo vediamo un po' in tutti i team perché grosso modo le prestazioni dei piloti degli stessi team si livellano sempre poi nasce l'Hamilton nasce diciamo c'è l'Hamilton che comunque ha un Bottas che è un buon pilota e va forte rifila sempre quei tre decimi due decimi mezzo secondo perché ci mette quel pelinino di suo in più però se tu al posto di Bottas ci metti un pilota un buon pilota come ce ne sono tanti vanno da subito molto forte cioè non c'è tutta questa cioè io ricordo nelle gare di Formula 1 di una volta cioè i divari erano un secondo tra il primo e il secondo c'erano veramente dell'eternità cioè se adesso vedi le griglie di oggi un secondo cioè dal primo all'ultimo coraggimi se sbaglio quindi vuol dire che ovviamente si è tutto più compattato però ovviamente perché si è compattato non perché i piloti sono fortissimi ma perché le macchine sono talmente perfumanti da sole che il pilota si ci mette un po' del suo ma non è che ci debba mettere chissà che cosa dunque partiamo dal presupposto che i Formula 1 sono più sicuri di una cabina di un autoblindo quindi è un po' come essere in un videogioco cioè quando tu vedi uno che in un videogioco va fortissimo cazzo come va forte questo qui nel videogioco e non è detto che nella realtà vada forte perché nel videogioco non c'è la componente rischio in Formula 1 ormai siamo arrivati a degli standard di sicurezza tali che il pilota non dico che è sicuro al 99,9% di non farsi nulla ma buone possibilità se non ci si mette la sfiga come capitò a Bianchi che quella è stata sfiga pura proprio era la sua ora quella lì era la sua ora lì suonò il campanello purino lui se anche fosse stata i box gli veniva l'infarto fine dei ragionamenti meno io la penso così perché comunque il trattore non doveva essere lì il trattore non poteva mettersi in movimento le bandiere non dovevano essere in un certo modo cioè troppe troppe cose strane quindi vuol proprio dire che in quel momento scoccò purtroppo la sua ora fine dei ragionamenti d'altro canto non lo dico io lo vediamo cioè se andiamo indietro anche solo qualche anno vogliamo parlare degli incidenti di Kubista cioè l'incidente di Kubista non mi ricordo dove era in Australia se non erro Canada o in Canada in Canada Montreal madonna cioè non c'è rimasto niente della macchina verissimo lui perché perché le macchine sono diventate diciamo l'oggetto di studio per la sicurezza del pilota quindi il pilota soprattutto e io sono d'accordo per carità però quando si correva con i Formula 1 alla Senna invece il brivido te lo sentivi sulla schiena perché avevi la testa fuori prima di tutto quindi non c'erano agevolazioni per i muscoli del collo il trapezio lavorava all'epoca perché oltre a dover lavorare per stare per stare dritto avevi anche ovviamente il contrapeso della velocità della forza centrifuga di tutte le forze che comunque sono contro la natura perché normalmente in un aeroplano cioè in un jet che sprigiona non so 5G sei blindato col casco e la tuta ma sei blindato fermo assicurato testa collo testa busto cioè sei lì non hai la testa spenzoloni dalla macchina così quindi all'epoca io secondo me poi posso anche sbagliarmi per carità ma secondo me c'erano piloti che erano più un po' più un po' più veri un po' più rustici c'era c'era meno c'era meno voglia di fare comunicazione meno voglia di fare il personaggio e più voglia di vincere e di essere piloti veri quindi dimostrare che la lotta che c'era e che c'è sempre stata tra il mezzo meccanico e l'uomo la vinceva l'uomo e allora per fare quello l'uomo doveva prepararsi in un certo modo e quindi alla tua domanda dico bah allora a parte che Binotto a me viene in mente Pinotto quindi mi mancherebbe Gianni poi faccio Gianni e Pinotto la Ferrari è un monastero anzi la Ferrari anche se ha spostato la sede fiscale in Olanda o in UK dove cacchio è lei è come Roma siamo in politica quindi cosa dire l'ufficializzazione di Sainz arriva in un momento in cui la Formula 1 è totalmente a piedi come siamo a piedi tutti e quindi questa è una notizia che probabilmente crea interesse alla fine sarà un po' scommessa diciamo una scommessa sì hanno messo due galli nello stesso polaio bisogna vedere se riescono a gestirli perché la Ferrari ha sempre avuto fin dalla notte dei tempi una prima guida e una seconda guida sempre non dimentichiamo che Irvine ha perso un mondiale perché gli hanno nascosto la ruota nei box ecco gli hanno nascosto la ruota Barichello avrebbe forse potuto anche vincere o vincere di più ma anche Barichello era un eterno secondo in questa epoca hanno scommesso su un campione come Sebastian Vettel che per carità quattro volte mi sembra campione del mondo con la Red Bull doveva essere un asso sotto tutti i punti di vista però però non lo so però io credo che ci sia una cosa molto importante da dire ai tempi in cui c'erano Schumacher Todd Ross Brown e Montezemolo la FIA aveva i regolamenti che erano totalmente ad appannaggio della Ferrari quindi loro facevano il bello e il cattivo tempo oggi la Ferrari non è più la più ricca probabilmente c'è la Mercedes che ha di più quindi è la Mercedes che ha dati i regolamenti vediamo che cosa farà con questo Carlo Sainz Junior sicuramente sicuramente sono due ragazzi molto giovani che hanno entrambi una smodata voglia uno smodato desiderio di far vedere quello che sanno fare potrebbero dare spettacolo potrebbero distruggere tante macchine potrebbero non vincere nulla però potrebbero anche animare un po' la scena perché la Ferrari secondo me è come è come un cosa dire come un malato non dico terminale ma quasi cioè non può una casa come quella del Cavallino non vincere nulla per quant'è che non vince un mondiale da Schumacher Raikkonen c'è stato per l'ultimo Raikkonen dopo Schumacher l'ultimo anno vabbè quanto tempo fa andiamo indietro 13 anni 12 anni la set cioè voglio dire una casa che ha un budget che ha il budget più importante di tutto il Circus non può sempre arrampicarsi sugli specchi e attribuire una volta al DS una volta al pilota una volta al telemetrista una volta all'ingegnere di pista le colpe per cui non riesce ad arrivare no io personalmente non lo accetto non sono un ferrarista sfegatato per carità però cioè non dimentichiamo che la Ferrari fa tutto in casa certo cioè la Red Bull va è andata ha soffiato quattro titoli a tutti ed è un assemblatore compro i motori da una parte i telai li fa lei cioè voglio dire sì sì per me è una cosa che non sta né in cielo né in terra cioè ai tempi in cui Fisichella era la Forza India la Forza India andava forte come la Ferrari che cacchio era la Forza India ha fatto delle ottime gare mi ricordo che ci sta voglio dire e questo secondo me la dice lunga un po' su quello che può essere un discorso legato alle strategie e alle scelte cioè non voglio dire con questo che io sceglierei meglio per carità scegliere è sempre difficile però io sono dell'opinione che avendo un portafoglio come quello che ha la Ferrari qualcuno deve scegliere e assumersi delle responsabilità però non sono responsabilità legate all'aspetto tecnico motoristico in questa fase qui secondo me le scelte e le decisioni sono sono da prendere sono da proporre sono da portare avanti a livello politico perché i regolamenti in questo momento e da diversi anni a questa parte danno sicuramente molto più spazio di azione di manovra ad altre case quindi o si usa un metro che è uguale per tutti oppure è inutile che ci stiamo a lamentare abbiamo avuto otto anni di Schumacher che vinceva a mani basse qualsiasi cosa poi io per carità Michael l'ho sempre stimato come pilota poi poco prima come persona perché comunque come tutti i tedeschi hanno un imprinting diverso rispetto a noi dopo però mi piaceva anche come persona quindi mi è dispiaciuto che si sia affermato mi è dispiaciuto che sia ritornato con Mercedes facendo delle mezze figure perché uno come lui non doveva ritornare così secondo me a mio parere diciamo è sembrato più umano una volta tornato con la Mercedes sotto certi aspetti sì 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 è vero però sai c'è sempre l'aspetto legato a che cosa hai fatto prima capisci allora ci vuole tanto per costruire un successo ci vuole un anno secondo per essere sputtanato è stato due anni in Mercedes prendeva la paga da Rosberg e purtroppo vuoi che vuoi che sia perché lui apparteneva ancora alla categoria di piloti che correvano con le macchine vere e quindi io ho sempre classificato le due epoche Armando con la WB etichettate con la WB l'era del bullone e l'era del bottone Schumacher era era del bullone non era del bottone quindi passare dal bullone al bottone non è così semplice quindi vuoi che sia per quel motivo vuoi che sia perché comunque aveva 40 anni non aveva più 20 vuoi che sia per tante altre motivazioni sì era rientrato ed era umano però purtroppo era un umano che ha disatteso le aspettative capisci perché comunque in lui vedevano l'otto volte campione del mondo non vedevano quello che in ogni caso si rimetteva in gioco nonostante l'età confrontandosi con ragazzini con giovani promesse dell'automobilismo e con gente credo io per cui già sapeva che poteva fare delle figurate la gente voleva solvedere quello che gli pareva Schumacher è passato un po' dall'essere pluricampione a mostrarsi in modo diverso a un lesso ecco a un lesso cosa che io non credo perché comunque se Schumacher avesse accettato come hanno accettato tanti altri da la memoria non mi aiuta a niente ex Red Bull comunque tanti piloti ex Formula 1 sono passati la 24 ore di Le Mans e al WEC allora se Schumacher avesse accettato perché le proposte lebbe avesse accettato di correre nel WEC allora secondo me Schumacher era ancora Schumacher garantito sai sono scelte che si fanno poi io non sto sindacale sono tutte giuste cioè come disse come disse Clint Eastwood in un bellissimo film le scelte sono come i coglioni ognuno è i suoi allora Edo ti ringrazio molto per questa bella chiacchierata e l'augurio è quello di magari rivederci in pista in autodromo appena sarà possibile questa situazione sarà migliorata io me lo auguro perché purtroppo anche per me quest'anno è stato un po' è stato un anno sarà un anno difficile anche perché avevo fatto una scelta te la posso svelare intanto non è segreto avevo già dato non dico per scontato ma avevo già dato la totale mia disponibilità per l'ingresso nel campionato europeo autostoriche il campionato che organizza il grande Peter Auto dove avevamo scelto due gare certe importanti che sarebbero state Le Mans Classic e Goodwood quindi il Festival of Speed di Goodwood che è un evento epico credo nell'automobilismo e nel motorismo mondiale ahimè questi signori a differenza dei nostri fantastici promoteri italiani che fanno un po' come il governo no rimandano le aperture di 15 giorni in 15 giorni lì l'economia italiana si sa come è messa quindi giustamente anche loro pensando di poter riaprire forse potrebbero anche ipotizzare qualche piccolo incasso diciamo cosa che non interessa Peter Auto perché Le Mans Classic che si svolge ogni 4 anni e Goodwood next year 2021 ha saltato direttamente la staccionata 2021 ahimè io sono rimasto al palo in attesa forse ci saranno delle novità tra qualche mese perché comunque fermo fermo non starò però per il momento diciamo che non non dico più di tanto perché purtroppo spesso e volentieri mi è accaduto di dover fare dei programmi un po' come quelli che ho fatto quest'anno e poi doverli smentire siamo un po' tutti in attesa diciamo questo è un periodo così è un periodo in cui dobbiamo prenderla veramente alla Battisti prendila così non possiamo fare un dramma restiamo avanti così unisti diciamo in qualche modo sì cerchiamo di guardare avanti con un con uno sguardo proiettato al futuro cercando di non guardare oltre il nostro naso ma andando molto più avanti cerchiamo di di prenderci questo tempo per riflettere per pensare a ciò che ci piace veramente fare della nostra vita alle nostre passioni alle nostre emozioni e attendiamo i tempi i tempi i tempi migliori sperando che arrivino incrociamo le dita incrociamo le dita grazie mille Edo e alla prossima ciao ciao a te e ciao a tutti coloro che ci vedranno e ci ascolteranno in questo lungo percorso grazie a tutti